Borsi, come ha visto la gara dopo una settimana intensa? Grande protagonista anche in Eurolega. Borsi, Davide, al microfono. Sì, è stata una gara sicuramente non semplice, una gara complicata, dove eravamo partiti con la testa giusta, eravamo riusciti a mettere la partita sui giusti binari e poi invece ci abbiamo avuto un calo di concentrazione, sicuramente dovuto anche alla fatica di giovedì, alle forze mentali che comunque abbiamo consumato giovedì in una partita veramente difficile. Comunque una gran partita e niente. E poi per fortuna siamo riusciti a ritrovare la giusta concentrazione e a portare a casa una partita alla fine meritata. E adesso concentrati per la posizione finale, per i play-off, comunque grande Sardana che stanno oltre le periose aspettative. Ma se noi stiamo facendo il nostro campionato, siamo partiti consapevoli che eravamo una buona squadra che dipendeva... Non siamo calciuti, siamo iniziati bene, abbiamo continuato bene, abbiamo fatto un campionato molto regolare. Se poi la gente non si aspettava che facciamo questo campionato, non è di certo colpa nostra. Noi sapevamo che eravamo una buona squadra e che potevamo giocarci tutte le partite come abbiamo fatto. Sta andando bene, ora abbiamo ancora tre partite da cercare di raccimolare i più punti possibili e vediamo dove terminiamo la regola del season.